Partivano dal porto di Gela o dalle coste dell'Agrigentino per raggiungere la Tunisia e far rientro con il carico di migranti che pagavano dai 3 ai 5 mila euro a persona per il viaggio. È quanto emerso dall'operazione Mare Aperto della Polizia di Caltanissetta che ha eseguito 18 misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I destinatari del provvedimento sono 11 tunisini e 7 italiani. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta e condotte dagli investigatori della squadra mobile, sono partite nel 2019 quando all'imbocco del porto di Gela si era incagliata una barca poi risultata rubata a Catania dove pochi giorni prima erano sbarcate decine di persone di origine nordafricana. Le intercettazioni hanno permesso di far emergere che gli scafisti sarebbero stati disposti anche a gettare i migranti in alto mare qualora lo avessero ritenuto opportuno di fronte a problemi di varia natura tra cui la varia ai motori.